e via si va a dormire per andare a sciare 4 giorni ed è san valentino tra l'altro oggi è il giorno della gita sulla neve con i tuoi amici sarà l'ultimo giorno, grande ricordo invernale a Inaba il meglio che puoi fare è divertirti il più possibile mattina presto, giorno oh una cutscene che bella la neve, che bello andare a sciare io volevo andare me lo aspettavo che andasse sullo snowboard la madonna quanto siamo bravi noi lo sapevo che ci veniva a do... ah no poverina è morto ma dai se vai ora muore si schianta sulla neve ecco è morto è morto ho vinto io ma dai chi ha fatto teddy fai qualche discesa godendoti il tempo con i tuoi amici io volevo andare a sciare ma... ma bubrii no... Ma dai E' difficile Ecco appunto Mi sorprende che Chie vada sullo snowboardi in realtà Ma io la carne Cosa vuol dire non regionale E' esatto No vuol dire da un'altra parte E' esatto Ma dai E' probabile Sta morendo di fame Non sapevo Io lo so quanto Eh effettivamente Ma no Poverino Allora Allora Se E' Non è da fare Fosse possibile Io Una mozzicata gliela tirerei Ma sempre per il fattore Voglio sapere Sono curioso Di sapere che sapore avrebbe Perché cervo Cinghiale Hanno un Sapore assurdo Sono buonissimi Un orso selvatico Non lo so Finite di sciare oggi E decide di tornare al rifugio Terme Ci sono le saune anche qui Dopo cena Tutti i radonati al rifugio Che bello Madonna mia E quello è un rifugio Eh ci sono le terme Abbiamo confermato Oh no Le war in globale Oh no Madonna mia Eccolo ti pareva Eccolo la No Vai via Stronzo No è troppo pericoloso Eh esatto Kanji Che cosa hai in mente Kanji Eccolo lo sapevo Parentesi Vorrei far notare Che qui Qui E probabilmente qui Ci sono tre lettori VHS Di VT In un unico mobile Era una cosa in più Che non volevo Scusatemi Ha paura Beh effettivamente Antti il don Non venisce proprio bene Non venisce proprio bene Non verrò più da te Aniwa Ma D Naoto Calmati Torna giù almeno è stata sincera non ho nessun problema potrebbe piccolina ma poverino soccola eh effettivamente sentiamo beh non è una bella storia erano tutte morte anche la sorella è svenuta no Beh non era una bella persona insomma Ma guarda che se la ride questa Era meglio se stavi zitto Carina Durante una gita una notte come questa Una cosa che mi successe di recente Non ce la faccio mi cago addosso Proviamo a parlare di una cosa di recente Egi di raccontare a loro una storia che conosci Perché lo è probabilmente Aspetta potrebbe essere O parla di Igor O parla di quello che è successo all'inizio Potrebbe essere interessante Mi svegliai in una stanza tutto blu Ma dai Sarà Teddy di sicuro Ma no I mostri Anaku e Kashiwagi Ma no da Racconta di quello che è successo La notte del festival No 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 Un uomo dal lungo naso Oooo Il cuore Cosa è Hanna naga e Ma sì È Ma no Ah Tene Tene Adesso lo menano Oh no Babychan Babychan Eh lo voglio sapere Voglio sapere anch'io come va avanti Dai voglio vedere cosa racconta Dai che palle Che palle Ed eccoci qua Il secondo giorno della gita sui sci Decidete di rimandere sulle piste fino al tramonto Lo farei anche io Lo farei volentieri Pensavo fosse un maniaco Cioè Di cosa parlavate Ecco appunto Gigi mini Forse Oh no Adesso lo mi raccoglisci Eh Teddy Ecco appunto Chie sei diventata gelosa Risa è proprio E' proprio stronza comunque Tutta rossa Tutta rossa madonna mia Allora Io lo ripeto continuamente Rise è l'unico personaggio Che abbia visto in A parte Sumire In tutti e due Persona 5 Che veramente ha un interesse fisso Costante sul protagonista E nonostante noi abbiamo detto Restiamo amici E qua va avanti di storia Quindi qualsiasi scelta Scegliamo Non cambierebbe Comunque lei Continua Anche se gli abbiamo detto di no Prendiamo proprio il livello di storia Lei comunque è Affezionatissima a noi Questa non gliela cambia nessuna Come cosa Eh quello è vero È vero Dobbiamo ricordarci di lui Oh no Ma dai Tanta mi piace sciare Teddy Ma devo decidere davvero Fa male vedere tutti gli sguardi Così sprezzanti Speranzosi in realtà E quello è vero Finalmente la voce della verità Oh Grazie geloso Volevo fare discesa con te Volevo dirgli geloso Tutti sulla seggiovia Forza Oggi siete determinati a divertirvi Poverina Tutti si divertono sulle piste Kanji sta aiutando Naoto a far pratica È difficile Ma poverina Adesso vedi che li mette dritte E parte a 200 Allora dritta Oh Kanji Perché tu sei stronza Non c'è ecco ti pareva ne sempa ma non aveva detto basta snowboard oggi eccola lì piccolina che sorronza la prenderò io preferisco prendere lì se vi prenderò tutti ma dai certo che puoi a lei non interessa kanji poverino però adesso si mette dritto e muore ecco è morto ma poverina il tempo passa mentre vi divertite sulle piste il sole sta per tramontare vuoi chiedere a qualcuno di fare un'ultima discesa con te? yuki korise naotora coi ragazzi ovvio questa è la scelta un po' più sfigatina questa è la scelta da fidanzato mi chiedo cosa succederebbe se vai con gli altri con le altre scegliamo cia ovviamente hai chiesto a cia se di sciare con te tu e cia vi divertite insieme sulla montagna allora togliete il snowboard da questa frase e apprende tutt'altro significato questa frase oh gesù ci e ti amo pure ci è ride contenta a chi non piace come ho detto questo d'altronde è il discorso con la fidanzata ma mi chiedo cosa sarebbe successo se avessimo fatto il discorso con qualcuna che non è la nostra ragazza appunto certo torniamoci tutti insieme la prossima volta veniamo solo io e te di che tipo ci è ecco ora ci disperdiamo nella neve non torniamo mai più credo a destra credo a sinistra credo che non cambi nulla io sinistra beh oddio non sembra stia fioccando chissà quanto pure la tempesta riduce velocemente la visibilità decide di tornare a rifugio until dawn ma davvero è diventato until dawn è da parecchio che camminate ma il rifugio ancora non si vede la neve sembra cadere ancora più forte oh no tranquilla te la copro io la bocca troviamo una grotta ci mettiamo lì rimani svegli a tutti i corsi basta continuare a camminare costruiamo una capanna di neve ma poverina ma c'era un rifugio lì accanto proprio lì vicino eh sicuramente sicuramente è una scelta migliore che morire di freddo nella neve ti pare che c'è qualcuno era diroccata nessuna risposta è aperta ovviamente ma c'è una bambola inquietantissima lì la porta è aperta ma non c'è nessuno dentro a parte quella bambola là dietro ci sembra ansiosa hai freddo? hai paura? eh beh effettivamente ha senso sì ma non prende anche io? se c'è segnale potresti provare a chiedere aiuto sullo schermo c'è scritto il segnale assente pare che non ci sia segnale ovviamente ovvio siamo in montagna e c'è la neve ovvio finché siamo assieme che ci importa eh quando mai c'è ottimo è di conforto c'è un fuocarello lì accendilo ah no è Yuki con quella di fuoco se ci sono dei fiammiferi sì eh esatto cerchiamo trovate vecchi giornali qualche fiammifero con un po' di forza riuscite ad accendere un fuoco nel focolare empatata lei potevamo toglierci i vestiti no? oh no no ma io voglio vedere questa scena con una ragazza che non è la fidanzata voglio vedere cosa succede oh oh che carina no non era un fulmine quello vado a controllare no no quello era un suono molto particolare lei l'abbiamo sentito che succede che succede oh no eccolo cristo te lo devo spiegare te lo devo spiegare te di stai zitto te di stai zitto eccolo lì ok ok Tutti ti guardano con disdegno Ma dai Cerchi disperatamente di spiegare Cosa stava succedendo Eccola Che storronza Eh esatto Pure Vabbè allora Io l'avevo detto che non ero sicuro Oh No 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 Quella era Margaret Quella è la mano di Margaret Perché c'è trascinati Perché c'è trascinati dentro Non ho capito Ma è un dungeon quello Margaret Sì Sì sono stata io Sì È una mia È la mia anima gemella È una specie d'amica Oh no Margaret Margaret Certo 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 Certamente Ah quindi sei qui per Per Marie Quindi questo è contenuto extra Ha chiesto di venire portato Dove si trova Marie È qui La foresta va qua Ok Ok Sì, esatto. Sono tutti preoccupati per Mary. Cosa vuoi fare? Liquida la cosa. Spieghiamogli la situazione. Spieghi loro che Mary ha perso la sua memoria ed è attualmente scomparsa. Emi? Sì, ma non è un caso come quelli precedenti. È esatto. Esatto, è una cosa che ha fatto lei, punto. Esatto. In teoria dovrebbe essere Kaguya, ma no. È come quell'orso. È un'ombra. Marie è in pericolo. Di quello non c'è di cui preoccuparsi. Siamo a livello 99, le persone più potenti. Per questo hai portato qui i miei amici. Vuoi vedere che lo faccio da solo, sto dungeon? Perché ha toccato la tv lei, non solo noi. Beh, però... Allora, due cose, aspetta, io non mi ricordo. Naoto ha visto Marie, credo di sì. Però, a parte quello, con la conoscenza pregressa di Persona 5, mi viene da chiedere. Noi combatteremo contro Margaret, e se sì, già qui, o in New Game Plus? Beh, loro non la conoscono, quindi sì. Eh, esatto, aspetta, questo è importante. Beh, ma questo non mi ha aiutato. Questa risposta non mi aiuta. In realtà, cioè, quindi erano diverse dalle ombre. Non è importanza, quello che pensate sia giusto è giusto. Sì, ma no. Voglio sapere perché entravano dentro loro e perché erano diverse. Ah, il tempo contato, nuovamente. Eh, esatto. Quindi Marie rimarrà chiusa per sempre, qua non la rivedremo mai più. Ah, ecco, questo è un motivo di trama in più. Cioè, nel senso, tu non riesci a completare questo, non è come negli altri, hm, casi, che torni dietro nel tempo una settimana prima per completarlo. Siccome è contenuto golden, ti tolgo direttamente quel pezzo e tanti saluti. E come se in Persona 5 Royal, tu non completi Maruki, il gioco finisce lì con la sconfitta di Yalba, tutta che è sostanzialmente la storia originale del Persona 5 base. Oi, che significa questo? Esattamente. Spiegati meglio, per favore. Eh, verrà rinchiusa e noi dimenticheremo. Oh. Cioè in pratica dobbiamo farlo solo qua Eh esatto No aspetta Ha appena detto che non possiamo venire qui dal Junes Ma gli schermi Ah luogo per luogo Ok ora si E se lo dicete Eddie allora ok va bene Ma noi lo faremo perché le vogliamo bene Per favore Sì Ma noi quindi dobbiamo per forza venire qua in montagna per fare sta roba Eh esatto Già ora già adesso Oddio Potrei già farlo adesso A parte per le armi però La mia unica preoccupazione è che non ho i soldi per comprare altro Teddy È già un miracolo che Teddy è passato Sì Ma palesemente la scelta e la salviamo o no Che stonzo Che stonzo Mi dispiace non mi dispiace non averlo detto Non sono riuscito a spiegarmi Eh esatto Eh esatto Eh esatto E se in realtà con voi dovrebbe essere stato facile Perché capite quello che sta succedendo Perché è pericolosa La sua memoria è la chiave La sua memoria è la chiave Margaret è la chiave Eh esatto Me ne vado per il bene di tutti Esatto Beh sì Questa è una cosa che ti spiegano anche in In Coco Tu muori perché vieni dimenticato Se qualcuno ricorda la tua memoria Vuol dire che ancora vivi nella testa di qualcuno Di morire Beh non proprio È una conseguenza Che si chiude e noi la dimentichiamo Non è che si ammazza lei per forza Quindi dice che come te adesso Lei è confusa Eh esatto Eh esatto Penso sia un po' più complesso Il ragionamento invece di Di Marie C'è un'atmosfera pesante Cosa vuoi fare? Mi serve la storia Non possiamo lasciarla così Sì Un'atmosfera pesante Noi Grazie a lui Bene Bene Beh abbiamo ancora il pettine volendo Ma la vera domanda è Possiamo arrivare in quel mondo dalla nostra tv Dobbiamo per forza venire qua e dobbiamo per forza entrare solo qui Sono male questa cosa Sì dopo che ti sei potenziato Non lo uso quasi mai Eh vabbè Ci penseremo da domani dai I tuoi amici stanno pensando a cosa fare prima Secondo Margaret non resta molto tempo prima che il mondo sfiorisca Devi trovare Marie velocemente e non potrai più rivederla Sei preoccupato per Marie ma prima devi valutare bene la situazione Più che altro non voglio tornare al rifugio Fate le valigie per tornare a casa Non voglio che succeda esattamente come è successo con Adachi Che siamo entrati subito e dopo Ci ha fatto un balzo Facendosi saltare tutti quei giorni lì Domani è San Valentino e esco gli esami Oggi dovreste riuscire a discutere degli avvenimenti di ieri Affrettati a scuola Sai che quasi quasi faccio passare domani Tanto penso che lo farà già il gioco Visto che stanno andando avanti da solo Dunque cosa avete trovato? Ovviamente Era una persona particolare Maria Ovviamente E quello è vero Le casa ringhe Sempre così Bene Tocca a voi due ora Esatto Ma ci possiamo arrivare dalla tv? Forse è stato un problema Non ne sarei sicuro sai Cioè Se a parte Maria Non penso che altra gente Abbia il controllo Su quella zona Non me la ricordo questa cosa Quando l'ha detto Eh esatto Eh esatto Eh esatto Eh esatto Eh esatto Non penso ci sia molto da cercare da soli Grazie gente Grazie gente Ne aspettavo l'onda energetica di nuovo Mi sa che sta giornata passa Tutti hanno la stessa intenzione Sulla testa così Sulla testa così Sulla testa così Sbrighiamoci a saltare allora Quel posto verrà chiuso a breve Vero? Già Quella Margaret Ha detto che non sarebbe durata a lungo Oggi possiamo ancora farcela Ma sento che ci sta allontanando sempre di più Eh è un attimo Significa che non sappiamo cosa succederà domani È una possibilità concreta Era in un posto completamente diverso fino a poco fa Dobbiamo muoverci oggi Visto che non sappiamo se potremo entrarci domani Quindi un dungeon da una sola giornata Eh va bene Sarà dura Ma possiamo farlo Forza Andiamo a salvare Marie Chan E se torno a casa? Ovviamente Ciao Marie Giusto? Entriamo nella tv Sì Andiamo Quindi un solo dungeon Abbiamo solo Ma c'è la volpe Eh? Sta nevicando Oh Hai ragione Ma questa Non è neve Sono petali Sento una voce provenire da qualche parte Ascolta La mia voce Le mi grida stupitanti Eccomi qui A grondare sangue della mia parole A supplicare i confini del mondo Sono la sirenetta Incapace di tornare La sirenetta Condannata alla spuma La sirenetta È la voce di Marie Chan Sembra tristissima Ciao Volpi Ha detto Marie Chan Che viene dall'altra parte Ma che vuol dire Dunque Una squadra per questo giro Sai che io cambierei Un po' le carte in tavola Questo giro Portiamo le tre ragazze Perché voglio fare Loro due Se fanno l'attacco speciale Voglio vederlo Il loro attacco combinato E Naoto Perché comunque A prescindere da tutto È forte Detto ciò Proviamo un secondo a entrare Vediamo se Margaret Mi dice qualcosa Ovviamente no Ma che vuol dire E non mi dice Ma che vuol dire Non mi dice Come va Che vuol dire